Un operaio risulta disperso, almeno 20 feriti, una tromba d'aria partita dal mare si è abbattuta su Taranto, travolgendo anche lo stabilimento siderurgico dell'Ilva. L'azienda ha subito gravi danni strutturali ancora da quantificare. Dalle prime notizie pare sia crollato il cammino delle batterie 1 e 2. Sono caduti diversi quintali di cemento, i pezzi della ceminiera si sono riversati su due tralicci dell'alta tensione. Sul posto ci sono ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Al momento, secondo un comunicato dell'Ilva, ci sarebbero 20 feriti lievi in infermeria, due sono stati portati in ospedale. Manca l'energia elettrica in tutta l'azienda e un tratto del muro di cinta della ciaieria è stato abbattuto. Non c'è stata evacuazione, come invece si era detto in un primo momento. Tutte le emissioni dell'azienda, viene reso noto in un comunicato, sono sotto controllo. Sono stati messi in circolo tutti i bus aziendali per raccogliere il personale non addetto alla gestione dell'emergenza generale e accompagnarlo alle portinerie e ai punti d'incontro dell'azienda. La tempesta si è abbattuta sull'intera città. Secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, il disperso era al lavoro nella cabina di una gru finita in mare dopo la tromba d'aria. Per le ricerche stanno arrivando le squadre dei sommozzatori. Molti gli alberi, i pali della segnaletica sradicati, un pullman si è capovolto davanti alla portineria dell'Ilva, mentre un camion che trasportava mobili si è ribaltato al centro della carreggiata. A Statte, una scuola è stata scoperchiata. Sei dei bambini che erano nell'istituto sarebbero rimasti feriti in modo lieve e sonora nell'ospedale Moscati di Taranto. La tromba d'aria che ha colpito l'Ilva avrebbe provocato l'incendio dei gas di scarico di alcuni degli impianti. Al momento è bloccata la linea ferroviaria Bari-Taranto e i passeggeri di un treno sono in attesa di essere trasbordati su un autobus per raggiungere Taranto.